Ciao a tutti! Alcuni di voi si ricorderanno sicuramente che alcune settimane fa è uscita una puntata dove abbiamo parlato di educazione all'identità di genere insieme a Roberto Rospigliosi. Quella puntata ha suscitato alcune reazioni, in particolare una che ci è molto piaciuta, anzi ogni volta che ascoltate una puntata e avete dei pensieri, delle riflessioni, delle esperienze personali da condividere con noi, beh fatelo perché può sempre nascere qualcosa di nuovo e costruttivo per tutti. Come ad esempio la puntata che uscirà domani che abbiamo realizzato proprio in seguito a quella reazione, ad una bellissima lettera che ci è stata inviata da Filippo, un nome di fantasia, ma che ha davvero sollevato moltissime riflessioni importantissime e toccanti. Per cui non perdete la puntata di domani come sempre dalle 6 di mattina in poi su tutte le piattaforme con Roberto Rospigliosi e non dimenticate di iscrivervi ai nostri canali YouTube, Telegram, al gruppo Facebook, chi più ne ha più ne metta e naturalmente senza dimenticare il nostro canale Patreon col quale potrete diventare produttori a tutti gli effetti di Alla ricerca dell'anima. Quindi ci sentiamo domani! Ciao! Ciao!